Santa Rosalia è la santa patrona di Palermo che in una situazione di famiglia benestante decide di lasciare tutti i suoi averi per ritirarsi sul monte pellegrino. Questa è proprio la parte iniziale quando è un parcheggiato più o meno qua e da qui inizia la chianata. Per Casino Palermo ho deciso di intraprendere una processione in solitaria sul monte pellegrino seguendo le orme di Santa Rosalia e quindi arrivando in vetta fino al santuario dedicato alla santa. Durante l'ascesa ho documentato tutto filmandomi e una volta ritornata negli spazi di via Loro ho deciso di proiettare la mia processione sopra il mio personale carro trionfale. A differenza della vera processione di Santa Rosalia il mio carro rimarrà fermo e la processione verrà proiettata sopra di esso quindi diventerà una sorta di tela. La mia è sicuramente una formazione fotografica e rimane comunque un punto di partenza e di ritorno importante anche se nell'ultimo periodo obiettivamente mi sono abbastanza allontanata dalla staticità per avvicinarmi sempre di più invece a un tentativo di rappresentare il movimento quindi di andare contro all'immagine statica.